Allora, ripartiamo con l'argomento dell'emergenza-urgenza, della reeternizzazione del sistema di emergenza-urgenza che ha visto nell'ultimo anno e mezzo un coinvolgimento sempre più presente delle cure primarie con la nascita dei nuovi centri di assistenza-urgenza, questa nuova integrazione tra l'emergenza e l'urgenza il tema del sovrappollamento dei pronto soccorsi. Qual è il suo pensiero? Cosa pensa di fare, di interagire? Una domandina assolutamente leggera. Assolutamente sì, perché sia un tema molto importante per i cittadini che devono sapere chi rivolgersi, in quale momento rivolgersi. Insomma, bisogna iniziare a fare un po' di chiarezza in questo sistema che negli ultimi mesi ha dato un po' di confusione anche nel cittadino che non sa dove andare effettivamente a chiedere risposte. Deve chiedere al medico di base, deve chiedere al CAO, deve chiamare al 118, deve andare in pronto soccorso, tutte cose molto importanti per un cittadino. Quindi, cosa ne pensi? Penso che questo sistema sanitario sia stato disegnato per una società che non c'è più, perché abbiamo comunque un numero di anziani molto grande, molte persone sole, molti malati cronici, molti malati psichiatrici, molte povertà diffuse e quindi spesso al pronto soccorso si presentano persone che magari avrebbero potuto essere ascoltate prima da qualcuno. Non parlo solo del medico di medicina generale, cioè del medico di famiglia, ma anche da un assistente sociale o da un'infermiera di comunità, questa nuova figura che mi sembra che ancora non sia operativa sul territorio. Noi dovremmo ripensare al sistema sanitario cercando di capire, e questa è la parola chiave che lei ha appena detto, in che modo una persona può contattare qualcuno che si fa carico del suo bisogno indicando una strada di soluzione. La presa in carico delle domande, non solo di prestazioni, ma anche di cura e di diagnosi è fondamentale e non vuol dire che tutto deve essere scaricato sul medico di famiglia, ma vuol dire che il medico di famiglia diventa il terminale ultimo che può arrivare a tutti i cittadini. E noi dobbiamo chiederci in che modo il medico di famiglia può essere contattabile in modo tale che il cittadino possa avere da lui o dall'infermiera del suo studio o comunque da le persone che lavorano con lui di sinergia di un'indicazione giusta su dove cominciare il proprio percorso. Perché magari a volte vanno in pronto soccorso o al caos le persone che avrebbero avuto semplicemente bisogno di rassicurazione e l'indicazione è il medico da molto semplice, cioè prendere la raccolina. I caos sono stati una toppa messa da un sistema che non funziona e veramente occorre rimettere dal centro non solo dalla persona del malato, ma anche dalla persona dell'operatore sanitario perché noi ci dimentichiamo sempre che nel rapporto di cura la fiducia è il problema fondamentale, ma una persona come può dedicarsi a 1800 pazienti? Io me lo chiedo sinceramente. Per questo occorre cambiare la visione e non solamente dei particolari, mettendo al centro il rapporto di fiducia che si può stabilire tra il medico di famiglia e i suoi assistiti con attorno delle figure che devono aiutare il medico di famiglia a reggere una situazione che sarà sempre più complessa nel futuro, cioè noi non possiamo pensare che le cose si semplificheranno, le cose si complicheranno e quindi occorre avere persone preparate, occorre prevenzione perché le persone devono anche sapere quando non è il caso di telefonare perché sono stupidaggini quelle che si vanno a chiedere a un medico, però occorre avere una visione diversa. Quindi in pratica una ricalibrazione, mi viene da dire da quello che ho capito, una ricalibrazione anche appunto di alcune competenze, una suddivisione migliore dei compiti tra le professioni sanitarie, quindi laddove c'è bisogno di un consiglio clinico effettivo, laddove c'è bisogno di una spiegazione diciamo del tipo di terapia da fare ovviamente il medico, laddove invece c'è un'equip di cure primarie con infermiere di comunità e famiglia piuttosto che medico di famiglia che lavorano integrati, quindi una suddivisione anche dei compiti per alleggerire e ridistribuire un po' i carichi di lavoro, mi sembra di aver capito... Assolutamente sì, io ho visto nei miei incontri sul territorio che ci sono già degli studi professionali di medici di medicina generale di base, che agiscono in questo modo. Anche recentemente parlavo con un medico di medicina generale di Ferrara e loro hanno uno studio associato che segue 15 mila pazienti, sono in tanti medici, ma hanno le infermiere, hanno delle segretarie, addirittura aiutano gli anziani a fare le prenotazioni e vengono indirizzati anche ai medici specialisti in modo chiaro, addirittura hanno due volte alla settimana il cardiologo presente all'interno dell'ufficio, ma poi questa sarebbe la vera novità che avrebbero dovuto introdurre invece dei CAO. La vera novità sarebbe dare al medico di medicina generale la possibilità di prenotare degli esami con urgenza. La cosa per me assurda che ho scoperto facendo questi incontri sul territorio è che quello che un medico all'interno del CAO può fare, un medico di medicina generale, un medico di famiglia non può fare. Ora è chiaro che poi le persone sono disorientate perché se andando al CAO io riesco ad avere in un'ora le prenotazioni urgenti di dieci esami e non posso farlo col mio medico di medicina generale, è chiaro che le persone che spesso sono in difficoltà perché hanno paura della malattia e questo noi sappiamo benissimo che questo timore è aumentato dopo il covid. Per forza vanno in strutture che aumentano e rendono più facili le prestazioni, ma il nostro sistema sanitario può reggere un aumento di prestazioni che a volte sono inutili semplicemente perché la persona che visita il paziente che arriva al CAO non è conosciuta e quindi per il principio della medicina difensiva fa chiedere dieci esami invece che uno come avrebbe potuto fare il medico di medicina generale che conosce il paziente. Si crea un effetto domino in cui il medico di medicina generale non riesce, è un po' frustrato dal fatto che non riesce a fare il suo lavoro, quindi io vedo il paziente e decido che deve fare questi esami con queste tempistiche, non riesco perché il sistema non mi dà questo ritorno, il paziente un po' comincia a pensare che io sia inutile, ma indipendentemente dalle mie capacità di medico sono inutile perché non riesco a essere performante per le sue esigenze perché il sistema me lo impedisce e quindi il paziente va in pronto soccorso per avere questa pressione e quindi questo chiaramente crea una spirale, c'è anche questo problema della tematica delle liste di attesa che da un lato ingolfa e dall'altro, cioè da un lato frustra e dall'altro ingolfa, è terribile. Sicuramente c'è un aspetto di tipo organizzativo anche solo nell'utilizzo degli strumenti informatici che può essere migliorato, migliorato ampiamente, perché mi dicono che i nostri sistemi in questo momento falliscono o si inceppano continuamente e che è difficilissimo addirittura condividere gli esami fatti dai medici specialisti per farli rientrare nelle cartelle cliniche nel fascicolo sanitario dei pazienti. Ci deve essere uno sforzo complessivo perché è impossibile risolvere un problema complesso solo tenendo conto di una dimensione. noi dobbiamo avere la consapevolezza che è un problema complesso, deve mettere attorno al tavolo diversi attori in modo tale che sia ridisegnato un sistema in cui al centro ci sia il paziente che deve essere preso in carico da un medico che poi da solo non può fare tutto ma può essere aiutato da tante figure di contorno fino a arrivare poi al pronto soccorso o all'ospedale e un sistema in cui il medico sia trattato veramente da professionista. Una cosa allucinante per me è sentirmi dire sempre, ma l'Emilia Romagna è prima nelle graduatorie sulla sanità, ma c'è uno scollamento tra queste graduatorie che vanno avanti solo per dati di tipo quantitativo e la percezione della gente. Ma non parlo solo dei malati, degli anziani o delle persone sole che quando sono anziane veramente non sanno cosa fare e come muoversi, ma parlo anche degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri e di tutte le persone che operano in questo settore. noi dobbiamo rimettere le persone anche soprattutto quando stanno male o quando svolgono un ruolo così importante come il vostro al centro delle nostre attenzioni, cioè al centro non ci devono essere delle procedure, sono importanti i protocolli, ma è fondamentale chi è in relazione con il paziente perché come un buon cuoco può fare una minestra buona con gli stessi ingredienti di un cattivo cuoco che la fa cattiva con le stesse cose che trova all'interno della dispensa, allo stesso modo noi dobbiamo mettere al centro i professionisti che sanno stabilire un rapporto di fiducia, conoscono i loro pazienti e utilizzando tutti gli strumenti che ci sono possono garantire un percorso di cura ma noi abbiamo un difetto di organizzazione di governance gravissimo anche perché spesso, questo è un altro problema che è un problema politico, nei posti apicali ci sono persone non per competenza ma per appartenenza e questo dal punto di vista del cittadino è veramente grave No, ce l'ho Ce l'ho, tra l'altro appunto qua continua a dare, oggi le abbiamo tutte contro, adesso è la rete invece che l'Audi però c'è la registrazione quindi poi pubblicheremo la registrazione che mi sembra venga anche decorosamente bene Allora, tornando a noi diciamo un po' più a campo largo a questo punto, mi sembra che gli argomenti siano assolutamente in buona parte in linea con determinati diciamo spunti che noi in questi ultimi dieci anni credo abbiamo assolutamente lamentato e portato avanti quindi siamo consapevoli che ci sono notevoli e notevoli e notevoli problemi su questi temi e quindi come dire, emergenza urgenza? pure primarie, cioè sono tutti temi caldissimi, caldissimi che non sono stati risolti, come quello della formazione professoressa, lei ha un'esperienza assolutamente ampia nel tema della formazione quindi il tema del problema della carenza medici, della formazione post laurea, non tanto del numero di posti a medicina come la vede su questa cosa? Perché l'opinione di Snami è sempre stata quella di agire in maniera pragmatica se io sono costretto a incaricare medici che non hanno i titoli perché erano incompatibili a prenderli se il sistema ne ha bisogno ed è il sistema stesso che tra l'altro organizza la formazione dovrebbe contestualmente inserirli nella formazione questo è un tema chiaramente nazionale, di respiro nazionale, ma bisognerà arrivare a risolvere il problema secondo cui noi continuiamo a incaricare medici senza titoli, vedi i cao, e poi non gli garantiamo la formazione e quindi ogni anno dobbiamo scorrere le graduatorie nuove e incaricare persone sempre nuove e quindi perdendo l'investimento pubblico che è stato fatto anche sull'esperienza professionale maturata questa cosa è uno dei punti che lei crede vada dipanato finalmente dopo oltre 15 anni è chiaro che questo necessita di un intervento regione e governo, insomma regione e stato non è una cosa semplice, però è un tema che ha afflitto sia l'ospedale sia ovviamente in particolare sempre questi due temi, emergenza e medicina generale sempre questi due perché sono in più anche pronto soccorso, in realtà perché pronto soccorso abbiamo avuto di tutto io penso che sia arrivato il momento di agire insieme al governo per una visione nuova di tutto il sistema sanitario nazionale perché è chiaro che le competenze sul sistema sanitario stanno quasi al 100% in mano alle regioni e la nostra regione spende la quasi totalità delle proprie risorse per la sanità però occorre un disegno nazionale che rimetta al centro il tema della prevenzione perché è un tema che possiamo affrontare solo coinvolgendo il ministero dell'istruzione noi dobbiamo fin da quando sono piccoli a educare i nostri bimbi e i nostri ragazzi a un rispetto di sé e a una cura del proprio corpo perché noi non possiamo dividere il dentro e il fuori ma questo si inizia a respirare dalle aule non dico della scuola primaria ma addirittura della scuola dell'infanzia e questo è un punto fondamentale che il ministero della sanità deve ovviamente concertare con il ministero dell'istruzione e questo sarà un punto fondamentale che io penso di mettere all'ordine del giorno perché non c'è nessuna ricetta che funzioni se le persone a cui la consegniamo non sono in grado di capire che cosa stiamo dando loro e ci sono tantissimi aspetti su cui noi possiamo fare prevenzione ma in modo semplice e sereno non creando delle fobie con l'elenco delle malattie possibili ma partendo da questo desiderio di una vita bella che può essere conservata e fatta crescere attraverso il rispetto di come siamo fatti spesso noi non sappiamo come siamo fatti e che cos'è che ci fa bene quindi con questa serenità ma con questa decisione fin da quando i bimbi sono piccoli ma basterebbe un lavoro fatto con le maestre e poi dopo con gli insegnanti di scienze senza fare aggiungere cose ulteriori c'è un altro aspetto che dovremmo una sana educazione sanitaria certo una sana educazione sanitaria ma partendo dentro la normalità perché dovrebbe entrare dentro tutto anche le mamme quando hanno i bimbi e su che cosa si fissano si fissano solo su alcuni particolari che riguardano lo svezzamento ma non sono aiutate a capire la complessità dello sguardo che occorre avere sul proprio bimbo per esempio l'aspetto psicologico l'aspetto affettivo l'aspetto legato ai disturbi dell'attenzione per l'esposizione agli schermi ai video e al web fin da quando sono piccoli quindi questo è un punto sicuramente importante l'altro punto e qui chiudo nella risposta che sta diventando troppo lunga riguarda proprio la formazione dei medici noi siamo un paese che fa fatica a programmare noi siamo il paese del giorno dopo siamo il paese che si muove solo sull'urgenza invece noi dovremmo imparare a programmare e mi risulta che spesso noi facciamo proprio degli errori nella programmazione ci dimentichiamo nel programmare di quanti medici generali abbiamo bisogno in Emilia Romagna e quindi facciamo dei percorsi di formazione specialistica per loro sottodimensionati semplicemente per errori di programmazione e di calcolo che non devono esserci quindi noi dobbiamo cominciare a pensare al futuro da qui a dieci anni fare un lavoro di programmazione sui numeri è un lavoro di progettazione sulla qualità della formazione perché noi non possiamo accontentarci di ripetere quello che abbiamo fatto nel passato noi dobbiamo capire quali sono gli strumenti con cui un giovane che vuole affacciarsi a questa professione può avere le modalità più semplici e più efficaci per impararla Penso che il tema della formazione che parta fin dalle scuole elementari perché no anche della materia, della materna in termini di educazione sanitaria imparare il nostro corpo, capire che il nostro corpo si può ammalare il nostro corpo può guarire sia un tema fondamentale per una cosa che ha detto anche lei prima perché se un paziente si conosce, sa come funziona, capisce anche perché il dottore gli dà un tipo di medicina piuttosto che un'altra diverse sono state le aggressioni ai sanitari fondamentalmente, io personalmente ne ho subite due molto violente fondamentalmente perché non c'era la capacità da parte del cittadino di capire il perché si dava un determinato farmaco piuttosto che fare una determinata prestazione piuttosto che fare un determinato esame piuttosto che dare il famoso e mitico antibiotico perché se loro non escono con l'antibiotico sembra che è un attentato alla vita quindi formazione del cittadino a partire dalla prima infanzia anche quindi nel rispetto dei sanitari e nella protezione delle aggressioni quindi giusto, ho capito bene? Assolutamente sì spesso noi consideriamo il medico come un guaritore che mette le mani e fa ritornare al miracolo e anche questa consapevolezza dei limiti di chi ci cura e questa capacità anche di accettare i propri limiti i limiti di persone che magari invecchiano e che se hanno dei problemi non possono pensare di ritornare a 70 anni come erano quando ne avevano 30 anche questo fa parte della cultura diffusa che ci deve essere e questa cultura diffusa parte proprio dal rispetto di come siamo fatti siamo persone siamo esseri in relazione siamo persone che nell'arco della vita possono avere dei problemi nascono, crescono e muoiono invecchiano perché noi dimentichiamo sempre che c'è un percorso e iniziare ad accettare le figure degli operatori sanitari come delle figure che ci aiutano a vivere una vita buona e che quindi dobbiamo innanzitutto rispettare e ascoltare perché ovviamente hanno delle competenze diverse dalle nostre per me questo è molto importante è chiaro che deve essere reciproco perché noi non possiamo come professionisti adesso parlo del mio campo della scuola non rispondere di quello che facciamo cioè il mestiere del medico il mestiere degli insegnanti sono i due mestieri più difficili perché hanno a che fare col bene più prezioso che sono le persone nei momenti critici ecco a scuola se un professore per anni non si aggiorna e per anni non appassiona i propri studenti a quello che dovrebbero studiare non può pensare di continuare così per sempre occorre rendere conto di quel che si fa nel momento in cui ci consideriamo professionisti dobbiamo essere responsabili di quel che facciamo mi ha dato un altro spunto il mondo della scuola assolutamente assolutamente perché il problema che ha il maestro e il problema che ha il medico è sempre e solo uno cioè deve capire chi è davanti io ho davanti un paziente che è diverso tutti i giorni con patologie diverse farmaci diversi una vita diversa un approccio emotivo diverso e il maestro ha di fronte una classe con magari 22 bambini tutti diversi con vite diverse esperienze diverse e però il risultato deve essere ottimale per tutti per tutti e 22 bambini e per il paziente quindi occorre personalizzare la terapia per il medico e personale l'approccio educativo per la maestra giusto? giusto? quindi in tema di protocolli cosa vogliamo dire in tema di protocolli questo tentativo di standardizzare le cure mediche faccio una cosa su questo perché è un tema molto caldo questo ma secondo me entra molto cioè noi stiamo vivendo un paradosso per come la vedo io cioè da un lato vogliamo l'umanizzazione delle cure e questo significa che ogni persona ovviamente è un individuo a sé con delle sue diversità con delle sue caratteristiche eccetera dall'altro abbiamo l'evidenza scientifica l'evidence based medicine che ci ha portato ovviamente a vedere quello che funziona statisticamente eccetera poi è chiaro che tutte le volte che fai gli studi funziona in un certo modo su una popolazione predeterminata e via discorrendo questo è un conflitto che noi medici viviamo perché il ruolo del medico dovrebbe essere quello di fare la sintesi sulla singola persona o in alcuni casi per alcune branche sulla popolazione come nel caso della sanità pubblica per cercare di trovare il miglior punto di equilibrio tra l'applicazione della scienza della conoscenza eccetera o sull'individuo singolo o diciamo sulla popolazione in alcuni casi prendiamo le campagne di screening prendiamo le campagne di prevenzione la copertura dei vaccini quindi diciamo il ruolo di quello scienziato che deve riuscire a trovare la sintesi e quindi fare il punto di fungo questo però purtroppo negli ultimi anni non lo diciamo solo noi da operatori ma lo sentiamo anche ci sono diversi da filosofi opinionisti e anche scienziati ovviamente che lo cominciano a dire c'è un po' una crisi in questo cioè si è passati in alcuni sistemi sanitari ad avere veramente una sorta di standardizzazione eccessiva che tende a spersonalizzare di umanizzare e a trattare come io l'ho detta in alcuni casi il paziente come se fosse la valigia sul ruolo trasportatore a cui io devo mettere il timbro piuttosto che devo mettere pensiamo ai processi di sicurezza adesso io la faccio come battuta anche se non è una battuta perché sono procedure di sicurezza sacrosante però per esempio oggi il paziente arriva gli viene messo il braccialetto col codice a barra gli viene scassionato queste sono cose sacrosante però dà un po' quell'idea e la proceduralità se hai male 5 ti do x se hai male 6 ti do y questa cosa invece dovrebbe secondo noi essere riportata più a un livello umano di relazione anche nelle strutture che hanno un alto volume di pazienti quindi tanti pazienti diversi tante cose e qui è la difficoltà di bilanciare le risorse la quantità di persone la formazione che è molto più difficile perché è più facile quando standardizzi fare tutte le cose un po' quel modello lì come vede questa complessità perché non c'è una risposta lo sappiamo che nessun candidato che noi possiamo intervistare può avere una risposta a questo perché non ce l'ha nessuno però se dovesse dare un'opinione perché la vedo molto legata anche al suo mondo che è quello della scuola cioè io non posso fare lo standard su tutti i bambini perché ognuno impara con delle modalità leggermente diverse questo ce lo dice anche la neurobiologia come vede la possibilità o quantomeno arrivare a questo bilancio un mio amico tanti anni fa mi ha detto non mettere in contrapposizione due cose giuste perché a volte lo facciamo e quindi dopo il problema diventa irrisolvibile perché è giusta l'umanizzazione della cura è bellissimo quello che lei ha detto cioè dobbiamo capire chi abbiamo davanti allo stesso tempo è anche giusto che ci siano dei punti di riferimento esterni perché non possiamo lasciare tutti in balia dell'improvvisazione o della non mettere a frutto l'esperienza a questo punto mondiale che viene condivisa e messa in comune e che comunque è un punto di riferimento preziosissimo quindi il nostro lavoro in campi difficili come possono essere quelli della sanità o dell'educazione deve essere quello di coniugare il chi abbiamo davanti quindi il rispetto per la totalità della persona che abbiamo davanti e i riferimenti scientifici a livello internazionale che possono aiutarci a garantire delle cure adeguate e non credo che sia difficile perché quando una persona quando abbiamo dei professionisti ben preparati aiutati e supportati e inizia a stabilirsi questo rapporto di fiducia questa conciliazione è possibile io vedo che diventa difficile la conciliazione quando una persona passa da un professionista a un altro in cerca di risposte salvifiche e alla fine rimane da solo con i suoi dubbi e con le sue incertezze e se ha un figlio o un parente che lo aiuta c'è la possibilità di recuperare ma quando è solo è difficile proprio vivere in questa grande incertezza per questo il tema della presa in carico del paziente è fondamentale così come è fondamentale il tema del rapporto di fiducia così come è fondamentale il tema della multidimensionalità delle figure che devono aiutarci a curare una persona tenendo conto dell'età diverse che ha delle diverse patologie e delle diverse situazioni in cui si possono trovare per esempio una cosa che ho visto nella nostra regione è la diversità di situazioni dal punto di vista sanitario nelle diverse aree della nostra regione cioè le aree di montagna hanno una situazione molto diversa rispetto a quelle della città e questa è un'altra emergenza su cui io vorrei assolutamente intervenire perché le aree di montagna le aree interne sono preziosissime non solo per la cura del territorio ma anche perché c'è la possibilità di una vita in mezzo alla natura che potrebbe essere anche molto importante e bella per delle giovani famiglie che vogliono crescere dei figli però se non ci sono i servizi innanzitutto i servizi sanitari questo diventa difficile e qui il tema dei medici di medicina generale dei pediatri ma anche della valorizzazione delle farmacie che sono nella nostra regione 1200 hanno quindi disposto in tutte cioè di seminati in tutto il territorio è molto importante questo è un altro punto da tenere presente entro 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 a livello perché siamo esatto mi abbia stuzzicato come dire su questa cosa perché sul tema della responsabilità esatto no no il tema il tema del come dire ogni persona un caso ogni territorio un caso pur avendo però una base omogenea ecco noi siamo dell'idea professoressa che vadano ristabiliti i rapporti armonici tolgo cambio un attimo la camera e la rimetto così rapporti armonici tra densità abitativa numero di professionisti di cure primarie numero di professionisti ospedalieri di emergenza insomma bisognerà trovare un parametro di riferimento nel quale oscillare no perché però un punto oggi noi tanta parte dei problemi che viviamo nell'erogare l'assistenza sono dovuti alla perdita di questa armonia nei rapporti pensiamo al medico di famiglia sovramassimalista 1800 assistiti anziani come si fa a seguire l'emergenza territoriale il tema dell'emergenza territoriale il numero di mezzi con un'equip completa realmente avanzata per popolazione e lì ci sono in realtà dei lavori degli studi dei parametri che però sono molto disomogenei non solo tra l'area montana e l'area peninica ma soprattutto nella nostra regione tra provincia e provincia e quindi io mi trovo Piacenza che ha una numerosità di mezzi medicalizzati con l'infermiere quindi medico infermiere equip completa che è molto diversa da quella della provincia adiacente poi mezzi tagliati mezzi chiusi per la carenza impersonale cioè questa armonia secondo noi deve essere recuperata quindi questo è già un appello a tutti i candidati quindi oggi vediamo lei ma è una cosa che diremo anche forse anche soprattutto insomma vista l'eredità degli impegnati di governo della regione anche quando speriamo poi avremo la possibilità di fare questa chiacchierata anche con il candidato avversario insomma però ricostruire questa armonia di parametri secondo noi è fondamentale perché permette non solo di bilanciare i carichi di lavoro ma permette quel supporto che lei diceva ai professionisti per poter fare il loro lavoro perché oggi o li bruciamo per sovraccarico oppure li teniamo in condizioni di quasi non dico abbandono perché non c'è l'abbandono però comunque senza la possibilità di avere soddisfazione nel lavoro e nel servizio che erogano questo secondo me è uno dei grossi temi laddove siamo riusciti a ricreare questi rapporti armonici la dottoressa Pelati mi sta già guardando con grande per esempio sull'emergenza noi persone dell'emergenza l'abbiamo cominciato a ritrovare per esempio sull'emergenza in questo momento abbiamo circa nella regione 300 candidati per formarsi come medici di emergenza a fronte di 75 posti banditi dalla regione che sono diventati 10 in più perché appunto nell'area vasta Emilia Bologna Modena Ferrara se ne sono aumentati di 10 a fronte di 300 domande allora questa armonia secondo noi va recuperata perché viceversa va pesante perché sennò noi non possiamo personalizzare la cura persona per persona territorio per territorio e quindi dare un servizio omogeneo secondo me è proprio secondo me dovrebbe essere il discorso di base di tutto cioè il rapporto di fiducia c'è il medico deve entrare in contatto col paziente il paziente deve tornare a fidarsi il medico cioè senza si deve fidare perché sennò è come quando io chiamo l'idraulico io non so fare l'idraulico quindi se lui mi deve venire a sistemare un tubo in casa io ho bisogno di quel lavoro ho bisogno di è chiaro che mi trovo magari meglio con l'altro e soprattutto secondo me il rapporto di fiducia dall'altro cioè ad oggi il medico ad oggi il medico secondo me non si sente e si sente sfiduciato anche da parte dell'alto cioè l'alto non gli dà il ritorno e il valore anzi lo schianta come diceva prima il dottor Pieralli e quindi si sente svilitto perché ha bisogno anche di avere la fiducia di chi di chi lo supporta insomma non vedo l'ora di rispondere ora questo che è un tema cruciale la fiducia si diceva una volta è una cosa seria no bisogna meritarsela e se noi non ritroveremo questa armonia e non avremo più persone che si faranno carico di noi perché non ci sarà più nessuno che vorrà fare il vostro mestiere mi dispiace questo è il tema anche perché tantissimi giovani decidono di andare via non solo a fare gli infermieri ma anche a fare i medici all'estero perché capiscono che ci sono dei sistemi più armonici usando questo termine bellissimo dove la professionalità è più valorizzata è più rispettata quindi io faccio un appello a tutti i medici che ci ascoltano che ci potrebbero ascoltare io non credo che le promesse di cambiamento del centro-sinistra sull'impostazione del sistema sanitario regionale per arrivare a un'armonia diversa siano credibili perché fino a due mesi fa Bonaccini continuava a dire che il nostro era il migliore dei sistemi possibili dopo un po' il suo candidato di partito De Pascale ha cominciato a dire che forse c'erano dei problemi da ritoccare ma perché è evidente a tutti lo scollamento che c'è tra la narrazione e la realtà quindi io non credo che si possa avere una visione diversa del sistema sanitario regionale una visione armonica che si fonda sulla fiducia che ripensa al futuro in un modo diverso e senza cambiare prospettiva ma a volte è difficile cambiare prospettiva se si è all'interno delle stesse logiche da 50 anni mi verrebbe da citare Einstein non si può cambiare non si può risolvere un problema con la stessa logica che l'ha generato ecco un po' così diciamo un'altra frase stupenda è il primo problema è pensare di non avere problemi è chiaro che noi siamo davanti a una situazione di grande complessità ma abbiamo il coraggio di guardarla da un altro punto di vista mettendo insieme tutte le risorse per arrivare a quell'armonia di cui avete parlato che mi piace tanto bene io direi che se ci sono altre domande dottoressa squilini voleva domandare qualcosa anche lei no abbiamo già sviscerato sufficientemente esatto proviamo ci sono altre questioni allora io faccio chiedo unile venia per i problemi audio streaming eccetera ma siccome ovviamente avevo registrato tutto verrà tutto rieditato messo bene con l'audio eccetera eccetera e poi lo pubblicheremo sulle nostre pagine professoressa perché erano in tanti insomma che nonostante oggi sia venerdì hanno chiesto poi di seguire qualcuno che già stava scrivendo eccetera eccetera quindi dopo mi metto di là subito laborioso a mettere a posto perché purtroppo ovviamente quando si infilano gli astri però almeno le immagini pare che siano diciamo decorose ecco e là grazie a mille per avermi ospitato grazie a voi per il lavoro che fate tutti i giorni grazie grazie a tutti